Colazione un po' dolce e un po' salata. Che cosa ti serve per questa colazione? Due uova, un quadrettino di cioccolata fondente 85%, un kiwi gold e un po' di olio di cocco, un cucchiaino di olio di cocco. Aggiungiamo nella padella un cucchiaino di olio di cocco. Lo facciamo scaldare leggermente, dopodiché prendiamo le uova e le rompiamo direttamente nella padella, prima una e poi l'altra. Con una spatola o un utensile di legno andiamo a mescolare il composto. Mescoliamo bene le uova, le mescoliamo bene fino a creare uno scramble. Dopodiché, una volta che le uova sono cotte, spegniamo il gas e mettiamo al centro il cioccolato fondente. Il gas deve essere spento, quindi da spento mettiamo il cioccolato fondente. Facciamo sciogliere il cioccolato, lo amalgamiamo un po' con il dorso di un cucchiaio. Nel frattempo puliamo il kiwi, quindi prendiamo un coltello e andiamo a togliere la buccia al kiwi. Facciamo delle rondelle, quindi tagliamo per orizzontale, quindi a fettine il kiwi e le adagiamo a rosa intorno all'uovo. Ed eccolo qui che la nostra colazione un po' dolce, un po' salata è pronta. Buon appetito!